Ad aver vinto l'Eurovision Song Contest 2020 è stata la bellissima Loren. Si tratta della sua seconda vittoria all'attivo, sbancando letteralmente il televuoto, e al secondo posto arriva Cacaria con il brano Cia 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 e il brano che ha vinto di Loren è Tattoo. Si intitola così, era già favorita la vigilia di questa cremesca Nora, al terzo posto arriva Noah Kirel, persona israeliana, con il brano intitolato Unicorn. Per quanto riguarda invece il quarto posto arriva il buon Marco Mengoni con la canzone che ha vinto San Rambo 2023, ossia la canzone intitolata Due Vite, che è una canzone molto bella ma al tempo stesso molto affascinante. Vi ringrazio in primis per la visione, in secundis per l'ascolto di questo video di oggi utente di Youtube. Iscrivetevi al canale mi raccomando, commentate, datevi le vostre opinioni e ci danno da verli. Complimenti dunque a Loren, ciao!